Testimonial di tutte le possibilità che ci sono intanto di uscire di casa e poi anche di far girare un po' di endorfine in questo caso, no? Sì, 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 sì. In generale la salute mentale delle persone è molto peggiorata negli ultimi mesi e l'attività fisica serve molto a dare un'occasione alla testa per liberarsi dalla rabbia data da così tanto isolamento. In questo momento storico così complicato abbiamo necessità proprio di rimetterci in movimento e arrivare a promuovere corretti e sani stili di vita partendo proprio dall'attività fisica, dal movimento, dallo sport. E lo facciamo mettendo a disposizione dei cittadini una campagna di comunicazione, una campagna vera e propria di contrasto alla sedentarietà attraverso uno strumento molto semplice grazie alla rete delle farmacie. La possibilità per i cittadini di entrare in farmacia, di trovare una scatoletta molto simile al classico farmaco da banco con all'interno però un bugiardino molto speciale. Un bugiardino che contiene indicazioni per poter svolgere un mese di attività gratuita, quindi completamente gratuita. Un ventaglio di oltre 1200 attività fisiche e sportive, da quelle più tradizionali in palestra sino ad attività all'aperto, arti marziali e anche attività in acqua perché avremo il coinvolgimento di oltre 370 associazioni e società sportive del territorio in qualcosa come 235 comuni d'Italia.